LUNEDÌ 3 LUGLIO DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI LUNEDÌ 4 LUGLIO DAL VANGELO SECONDO Oggi la Chiesa fa memoria dell'Apostolo Tommaso e ci viene proposto come brano per la liturgia di oggi proprio il momento in cui Gesù appare a Tommaso la seconda volta 15 giorni dopo una settimana dopo la Pasqua ed è bello pensare a questo uomo che ci assomiglia tanto forse era detto Didimo, gemello perché è il gemello di ognuno di noi in ognuno di noi c'è una parte di Tommaso facciamo presto a liquidare l'esperienza e la vita di questo uomo dicendo eh Tommaso era uno che voleva mettere il naso Tommaso era uno che voleva vedere ma ti credo, i suoi amici gli hanno raccontato dell'esperienza potente di vedere Gesù risorto vuoi che non lo desideri anche lui anche noi avremmo voluto la stessa cosa, anche noi avremmo desiderato la stessa cosa ed ecco che Tommaso assente la prima volta questa volta non manca l'appuntamento Tommaso ha imparato a vivere un ritmo il ritmo della settimana il ritmo della domenica il ritmo dell'incontro con Gesù risorto insieme con gli altri amici il ritmo dell'eucaristia domenicale dove incontriamo il Signore vivo presente in mezzo a noi e Tommaso si sente dire metti qui la tua mano nel mio costato, nelle mie ferite perché sono proprio quelle ferite a far incontrare la presenza del risorto proprio il segno dell'infedeltà il segno della violenza, il segno della cattiveria il segno del peccato dell'uomo diventano proprio il luogo dove Tommaso incontra il suo Signore quelle ferite che non sanguinano più ma che sono diventate luminose lasciano trasparire tanta luce così anche per la nostra vita tutte le volte in cui lasciamo che il risorto passi attraverso le ferite del nostro vivere queste diventano feritoie di luce attraverso le quali noi vediamo la presenza del Signore risorto e quanto può operare nella verità la sua misericordia e questo brano evangelico si conclude parlando proprio di noi beati quelli che non hanno visto e hanno creduto noi siamo quei beati lì che non hanno visto fisicamente il risorto ma crediamo perché vediamo gli effetti della risurrezione vediamo quanto lui sia sul serio all'opera, nella storia, nel mondo, nella Chiesa, nella vita personale di ognuno di noi quando al momento più opportuno come un batter d'occhio, come un baleno lo vediamo, lo sentiamo sperimentiamo tutta la verità della sua presenza non ci serve più nemmeno toccare l'arte ha raffigurato che Tommaso mette dentro il dito al costato trafitto di Gesù ma il Vangelo non ce lo dice forse semplicemente il vedere è stato sufficiente per quell'uomo così anche per noi è sufficiente intuire questa presenza per fare esperienza di quanto questa presenza possa essere potente nella nostra vita allora siamo felicemente in compagnia di Tommaso gemello di ognuno di noi che ci insegna a vivere la fede come un incontro personale con il Signore Gesù non vissuto in maniera intimistica da soli ma all'interno di una comunità viva una comunità che si raduna e che lo riconosce presente grazie grazie grazie